ciao bella ragazzi sono io il vostro amico roberto spada sto creando un video sul mio youtube visitate il mio canale su youtube cercate roberto spada e vedrete tutti i miei video ora mi farò un tutorial niente questo video qua l'ho fatto perché oggi sono solo il mio migliore amico oggi non c'è fa lo stesso ok questo tra un po bene vado a casa domani verrò a sarzana farò in giro ma come bella la mia città questa è la piazza molto bella ora stiamo andando a piazza san giorgio a san giorgio primo passo da miei amici e la graciale ma c'è una pizzeria comunque sto qua la mia città sarzana seguite i miei video sono divertenti un po ironici prossimamente farò un video dentro una boutique di sarzana stiamo avvicinando all'ottico di sarzana avendo occhiali c'è tutto un po corrente la zona che balla a me piace questo stile qua di occhiali questo qua sono da uomo uomo, donna, misto questo è il nome vedete fare gli occhiali in questa zona questa zona che balla a voi studio tanti saluti da roberto spada ciao belli seguite i nostri canali il nemico Aldi il nemico del cuore Alberto Dark JTV e alla prossima ciao ciao ciao